grazie a questo sito abbiamo la possibilità di ricevere subito un nft totalmente gratuito o meglio ci basterà fare un semplice deposito di 15 euro all'interno della piattaforma e subito dopo ci verrà regalato un nft da un valore fino a un massimo di circa 25 euro per ora fino ad adesso quindi c'è la possibilità che implementeranno altri nft magari con un valore maggiore ma passiamo subito sul mio desktop e vi faccio vedere subito di cosa stiamo parlando io ti ricordo che se vuoi puoi lasciare un mi piace e iscriverti al mio canale in modo da aiutarmi e supportarmi per i prossimi video il sito in questione è questo e si chiama royalties questo sito ci dà la possibilità di ottenere dei nft in ambito calcistico musicale e tanti altri quindi ogni nft di questo genere avrà ad esempio il suo giocatore quindi possiamo vedere alcuni e possiamo vedere anche il loro controvalore io ho già fatto il mio primo deposito e ho ricevuto il mio primo nft possiamo vedere che è questo e l'ho messo anche in vendita non sono stato molto fortunato ma in ogni caso il suo valore è di 2,52 euro che ho messo come già detto subito in vendita ma non è tutto perché infatti ho già prelevato quello che avevo messo all'interno della piattaforma e possiamo vedere che avevo messo 15 euro ho fatto prima la prova del minimo prelevabile e possiamo vedere che già ad un euro mi aveva fatto già prelevare quindi quindi possiamo prelevare subito i 15 euro che mettiamo all'interno della piattaforma e subito dopo possiamo vendere i nostri nft con calma e ottenere quindi degli altri soldi oltretutto abbiamo la possibilità di invitare persone infatti ogni persona che invitiamo si registra e inserisce i propri documenti abbiamo di nuovo la possibilità di ottenere degli nft quindi sempre tra quelli presenti all'interno della piattaforma io credo che questo sito al momento sia veramente al lancio ecco perché è molto minimale e ha ancora pochi nft all'interno secondo me possiamo pensare di registrarci ottenere degli nft in modo gratuito e magari provare a vedere se col tempo prenderanno valore perché magari la piattaforma crescerà e gli nft che sono all'interno prenderanno valore o comunque in alternativa vi consiglio di invitare i vostri amici è molto semplice in 5-10 minuti fate tutto veramente molto semplice e ottenete il vostro nft in modo gratuito sia voi che avete invitato il vostro amico sia il vostro amico che si registra successivamente lo può mettere in vendita oppure può pensare di conservarlo questo è un bonus che è appena uscito non so quanto tempo durerà vi invito a provarlo e a farlo che è veramente molto molto veloce e semplice ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia portato dunque la novità del momento perché veramente in giro su facebook e un po' nei gruppi ovunque non gira altro che questa applicazione onestamente è fatta bene e credo valga anche la pena investirci quei 15 euro e prelevarli tra l'altro anche subito quindi ricevere questo nft come gioco ecco diciamo così e venderlo subito inoltre come vi ho già detto secondo me questa piattaforma crescerà con il tempo perché secondo me è ancora gli arbori quindi è nata da poco in descrizione trovate il mio link in questo modo mi farete ricevere un altro nft e mi aiutereste a crescere qui su youtube ancora una volta io vi invito a iscrivervi al mio canale e ci vediamo presto in un prossimo video ciao ciao ciao